Yeah! Indovinate dove sono? BOOM! Barrio gotico di Barcellona! Nice! Oggi vi porto a bere qualcosa in un posto molto interessante. Al momento sono in Carrer del Pi, che è questa via qua, e procedo fino al primo incrocio. Osservate come in città non c'è quasi nessuno per colpa del covid. Generalmente questa era una delle strade, in generale questo quartiere era sempre pieno di gente. Arrivati a questo punto giriamo a sinistra in Carrer della Porta Ferrissa e procediamo circa 50 metri. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Guardate, quando vedete apparire questo cammello, anzi questo dromedario, siete vicini al posto magico che si chiama Bar Hardi ed è un giardino nascosto. Entriamo nel giardino nascosto. Nessuno potrebbe pensare che per entrare in questo posto magnifico bisogna passare all'interno di questo mercatino turistico. proseguiamo avanti, superate il mercatino e BOOM! Arrivate al Bar Hardi, salite queste scale, qua ci sono i bagni, non li inquadro. Saliamo, 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 saliamo. Uuuuuh! Il Bar Hardi! Nice! Un piccolo giardino nascosto, un piccolo angolo di paradiso inaspettato. Guardate che bello! Siamo nel giardino interno di un palazzo storico, c'è questo bar dove fanno degli buoni cocktail. Io per oggi ho preso una birra, un locale molto alternativo come potete vedere. Ricordatevi di portare solo cash. Quindi mi bevo la mia buona birra. Ancora una carrellata per farvi vedere qualche dettaglio. Ad esempio, guardate che bei murales, ci sono... è veramente un posto simpatico, carino, tranquillo. I turisti in generale non conoscono l'esistenza di questo posto perché chiaro quando vedi il mercatino all'ingresso non puoi pensare che ci sia questo bar. Però adesso che lo sapete potete venirci. Ricordate di portarvi delle banconote perché non si può pagare con la carta di credito. Boom! È il bar hardy. Nice!